Quali sono gli aspetti salienti del primo rapporto SDGs? Le sue parole chiave, people, planet, partnership, prosperity and peace, indicano la filosofia di base degli indicatori di sviluppo sostenibile che sono strettamente legati poi ad aspetti concreti della nostra vita e what we measure affects what we do è un altro messaggio fondamentale legato alla necessità di misurare per agire. Gli indicatori per lo sviluppo sostenibile in questa misura sono fondamentali e questo primo rapporto delinea le attività fatte dall'Istat a questo riguardo in questi ultimi due anni. Si tratta sicuramente di progressi ancora diciamo che potrebbero essere molto più consistenti ma gli indicatori e le misure statistiche che vengono offerte nel rapporto che misurano appunto questi obiettivi hanno tra l'altro la funzione proprio di cercare di guidare le azioni di tutti quanti, di chiunque può agire nella direzione di tenere insieme e considerare sempre insieme in maniera interconnessa le dimensioni economico, sociali ed ambientali.